Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Come va il trimestre anti-inflazione secondo lei? Conveniente, è la stessa cosa. Sceglie i prodotti su cui c'è il simbolo del prezzo bloccato? Scelgo i prodotti dove c'è lo sconto. Indipendentemente dal fatto che sia quello del governo? Esatto, esatto. Compro quello che mi serve, non vado a vedere se c'è il prezzo bloccato o meno di un prodotto. Non fa attenzione all'offerta quindi? Sì, certamente, se è di qualità certamente sì. Entriamo in uno dei punti vendita che ha aderito all'iniziativa del governo e vediamo le offerte disponibili. Partiamo da uno dei prodotti più cari, l'olio. Indicazione del carrello e prezzo bloccato sull'olio per friggere, olio di semi di tutti i tipi, olio bio di semi, ma nessuna indicazione sull'olio d'oliva. Sembrerebbero essere più convenienti le altre offerte, ad esempio quelle riservate ai soci. Questo per esempio, questo prezzo bloccato, 1,60 euro, uno sgrassatore da 750 millilitri, però questo, sempre sgrassatore, sempre 750 millilitri, senza offerta costa meno, perché c'è l'offerta soci. Facciamo un'altra prova. Sostiamo per un po' nel reparto caffè, prodotto certamente molto acquistato. Vediamo quanti scelgono il prezzo bloccato che è in questa fila, quanti le offerte soci indicate qui e quanti una marca di fiducia pur senza offerta. Nessuno ha scelto i prodotti a prezzo bloccato. In due hanno scelto un prodotto in promozione e quattro hanno preferito acquistare la marca di fiducia. Come sceglie il prodotto? Sul prezzo, sull'offerta, sulla qualità? Sulla qualità, piuttosto, perché è meglio spendere un pochino di più. Sì, in base alle offerte che fanno i supermercati, non al bollino, infatti non lo sapevamo neanche. Ci sono anche altre offerte più convenienti di altre marche. Bisogna sempre cercare l'offerta migliore. Sì, adesso sì. Ritiene che ci sia stato un aiuto concreto da parte del governo, calmierando quei prezzi? Non credo proprio. Sì, sta scendendo un pochettino, ma i prezzi comunque sono alti. Ancora non ci siamo. Si spende sempre molto comunque.